Signore e signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo, ben ritrovati qua nel disordine della mia libreria da me e da una delle mie ultime scoperte in fatto di magliette di calcio, la maglietta della Nazionale Austriaca Euro 2016 che ho trovato giusto stamattina, diciamo ho un amico che ha una bancarella di abiti vintage e mi lascia queste piccole chicche, facciamo cambio, io gli do i miei prodotti e lui mi passa le magliette, commentiamola così. Allora cari signori, cari signori, cari signori, questo video non è dedicato alla serie post 25 aprile, questo video non è dedicato ai 45 giorni del governo Badoglio, ma è dedicato ad un argomento estremamente importante, se vogliamo molto più importante. Mi riferisco a che cosa? Mi riferisco ovviamente ai bombardamenti atomici sul Giappone, ci ho già fatto dei video, ne ho parlato più volte, abbiamo affrontato l'argomento più, più, più e più volte e quest'oggi come sempre sono partiti sui vari gruppi facebook di cui faccio parte, le solite contumelie da parte dei soliti fenomeni agli ammargani assassini che hanno brutalmente vaporizzato migliaia di civili innocenti che hanno distrutto le povere città e bla 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 bla. Ok 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 ok. È una polemica che si trascina da anni, una polemica tritta, frusta e decisamente stancante. Ma qui mi viene in soccorso l'amico Giulio Bernacchia che è un appassionato di storia, si interessa anche lui come me di argomenti inerenti alla seconda guerra mondiale ed è uno spirito ed è anche lui un utente di questo canale, ci segue, lo saluto ciao Giulio e grazie di cuore. Dicevo Giulio Bernacchia ha scritto un piccolo manuale di istruzione per la difesa dalle arti oscure dei commentatori di faccialibro da usarsi per combattere le più diffuse tesi fantasmagoriche. Quali tesi? I giapponesi stavano per arrendersi! I giapponesi sono ed erano milioni ma quelli che contavano erano sì e no una decina, cioè dieci unità, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci! Non milioni, dieci! E tra questi dieci c'era qualcuno che temeva che un prolungamento delle ostilità avrebbe causato un tracollo del tessuto sociale del paese con conseguente guerra civile e fine del sacro istituto imperiale. Ricordiamoci che in Giappone all'epoca l'imperatore era di fatto una divinità. Queste persone, insomma, questo piccolo gruppo spingeva quindi per l'accettazione dei termini posti degli alleati a Potsdam, ovvero sia la resa senza condizioni. Questa fazione era però in minoranza e accolse le bombe come un ten new, un dono degli dei che fermò l'orologio della storia prima che il Giappone collassasse su se stesso tornando al medioevo. In c'era poi, tra queste diciamo dieci persone che contavano e governavano il Giappone, la fazione militarista, quella che comandava le forze armate, che attendeva e anzi auspicava l'invasione americana. Il loro piano era quello di infliggere perdite così devastanti da indurre gli alleati ad un cessate il fuoco con delle condizioni più vantaggiose per il Giappone. Ogni considerazione umanitaria nei confronti della propria popolazione era esclusa. Tutti sarebbero stati sacrificabili, tutti sarebbero stati considerati soldati, uomini, donne, bambini. Allora, è come se Hitler fosse riuscito a respingere lo sbarco in Normandia ed avesse costretto gli alleati ad accettare una soluzione in cui il Führer sarebbe rimasto al potere, nessun processo di Nuremberg sarebbe stato istituito e la Wehrmacht, imbattuta in battaglia, avrebbe mantenuto il controllo della Germania e magari anche di alcuni territori occupati, tipo Belgio, Olanda, la parte orientale della Francia, eccetera. Va bene, e magari anche l'Italia, tipo la provincia di Belluno, la Dalmazia, l'Istria, la provincia di Verona, magari Milano. La Germania avrebbe potuto richiedere, se avesse fatto come i giapponesi, avrebbe potuto richiedere il ristabilimento del Regno Lombardo-Veneto, magari. Ecco, allora, il piano giapponese non era però campato in aria. Il Ketsu-Go, o lotta fino alla fine, era basato sull'utilizzo massiccio delle imponenti riserve accantonate nel corso degli anni contro le teste di sbarco americane che i giapponesi avevano individuato in maniera precisa e corretta. Ma del resto, conoscendo l'orografia del Giappone, conoscendo come è fatto il Giappone, i punti dove una forza da sbarco potente poteva sbarcare erano decisamente pochi ed erano quelli. Una lettura, diciamo, c'è il vizio di una lettura poco attenta della scarsa attività giapponese contro le forze aeronavali americani negli ultimi mesi di guerra. Questo porta a concludere in maniera clamorosamente sbagliata che i giapponesi fossero alla canna del gas. Ma in realtà questa era una decisione cosciente, risparmiare le forze per usarle nell'armageddon finale in cui si sarebbero giocati tutto. Cioè tutti a dire perché erano la canna del gas, perché non reagivano, perché... No, non reagivano perché avevano accumulato riserve imponenti per un ultimo disperato attacco finale contro i punti di sbarco in cui sarebbero sbarcati americani, inglesi e successivamente anche i russi. C'è da dire che un qualsiasi espediente che rendesse inutile l'invasione avrebbe privato la fazione militarista di qualsiasi forza negoziale. Allora, gli americani erano perfettamente a conoscenza della situazione, di questa situazione in Giappone e grazie ai loro analisti riuscivano a leggere praticamente in tempo reale i messaggi della diplomazia giapponese e fecero un'opera gigantesca pari se non superiore a quello che fecero gli inglesi con Ultra che decifrava enigma. Magic si chiamava il sistema di decretazione americano per i giapponesi. Ma facciamo un passo indietro nel tempo e andiamo un attimo in Europa. 1944, fronte europeo e sovietico. Le forze armate tedesche da giugno ad agosto 44 perdono ogni mese una media di 500.000 legacy 500.000, diconsi in pratica mezzo milione di soldati tra morti e prigionieri, feriti esclusi e nonostante questo le forze armate tedesche combatteranno ancora per quasi un anno. 1945, Germania centrale. Le forze sovietiche sferrano l'attacco finale per la conquista di Berlino. Sul campo ci sono tre gruppi di armate, quelli che nell'armata rossa erano chiamati fronti. Quelli che noi chiamiamo gruppi di armate nella terminologia sovietica, nella terminologia dell'armata rossa sono chiamati fronti. Il primo e il secondo fronte bielorusso e il primo fronte ucraino, comandate dai migliori generali sovietici, ovvero sia Zhukov, Rokosovsky e Konev. Quindi gente tutt'altro che scarsa, se vogliamo. Due milioni e trecentomila soldati contro 36 divisioni tedesche per un totale di circa 750 mila uomini. I sovietici, che erano maestri indiscursi nel combattimento urbano, godono di una schiacciante superiorità numerica in uomini e mezzi, ma i tedeschi combattono per la difesa del proprio paese. In circa 23 giorni i sovietici avranno più di 80 mila morti. Praticamente in quei 23 giorni i sovietici persero gli stessi uomini che persero gli americani in dieci anni di guerra del Vietnam. Non so se rende l'idea. 1945, Stati Uniti Continentali, giugno e luglio. Il numero di feriti, il numero di letti occupati dai feriti americani raggiunge il numero di 300 mila. Nella classe politica americana e nelle alte sfere militari americane si comincia a pensare che se solo si trovasse un modo di poter vincere la guerra contro il Giappone senza poter ricorrere ad un'invasione. E lì si accende una lampadina, una grossa lampadina, The Thing, ad Alamogordo. Nota bene una cosa. Se fosse stata pronta qualche mese prima, l'atomica sarebbe stata sganciata su Berlino, perché l'atomica era stata creata, si può dire apposta per essere sganciata su Berlino. La Germania si arrese prima. Gli americani si ritrovarono praticamente con tre bombe atomiche. The Thing, il prototipo, quello che esplose nel deserto ad Alamogordo. Little Boy, la prima bomba atomica ad uranio arricchito. E Fatman, che era una bomba al plutonio. E praticamente il discorso... Allora, notate bene una cosa. Sapete già che prima dei bombardamenti atomici su Hiroshima e Nagasaki, c'erano stati i violentissimi bombardamenti, prima esplosivi e poi incendiari, dei B-29 sulle principali città giapponesi. Tanto per dirne soltanto una, Tokyo era stata rasa completamente al suolo. Si decise di fare così perché in pratica le città giapponesi erano autentici formicai. Non c'erano poli industriali veri e propri. C'era una miriade di piccole officine dove si fabbricavano, che so, calciature per fucili, dove si fabbricavano, dove si riempivano munizioni. Molte famiglie avevano a casa una piccola pressa, una piccola apparecchiatura per riempire cartucce, per caricare le cartucce. Cioè, era tutta una serie, cioè tutto il Giappone era un autentico formicaio che lavorava solo per lo sforzo bellico, neanche per mangiare, per lo sforzo bellico. E questo rendeva praticamente inutili i grandi bombardamenti esplosivi che avevano funzionato così bene contro i poli industriali tedeschi e italiani. No, serviva qualcosa di più radicale. E lo conosciamo bene. Le incursioni del generale Limei, famosa quella su Tokyo, praticamente qualche centinaio di bombardieri B-29 che arrivano a volo caricati a tappo di Napalm, che arrivano e inceneriscono Tokyo con 200.000 persone. Nota bene, nota bene, il solo bombardamento incendiario di Tokyo fece molti più morti rispetto a Fatman e a Little Boy, a Nagasaki e Hiroshima. Fece molti più morti, ma questo ci si tende a dimenticarlo. Allora, in pratica, il discorso che Truman fece ai giapponesi può essere riassunto brevemente così. Allora, cari signori giapponesi, noi americani con 600 bombardieri B-29 caricati fino all'orlo con Napalm e ordini incendiari vi abbiamo svaporato Tokyo in una notte facendo 200.000 morti. Ok? Vi volete arrendere? No? Ok, adesso facciamo un altro bel discorsetto. Visto che non vi volete arrendere con la campagna di tradizionali di bombardamenti incendiari, facciamo qualcosina di più simpatico. Una sola bomba portata da un solo bombardiere che incenerisce ogni vostra singola città. Vi arrendete? No? Ok. Little boy su Hiroshima. Vi arrendete? No? Ok. Fatman su Nagasaki. Vi arrendete? Vi prego, salvaguardate almeno la figura dell'imperatore. Lì Truman, MacArthur e gli altri hanno detto dunque ci abbiamo 300.000 feriti in patria. Siamo con l'economia tirata per il collo perché stiamo finendo anche noi le risorse. Non abbiamo più bombe atomiche almeno fino a settembre e ottobre perché le abbiamo usate tutte e tre. Va bene, salvaguardiamo lo stramaledetto eroito e condanniamo gli altri. E più o meno, come dire, accadde questo. A questa cosa, e qui rubo le parole dell'amico Mattia Ponchia, si aggiunge anche la vergogna e l'ignoranza, bella e buona, se non la malafede, di chi dipinge il Giappone e i giapponesi come vittime della seconda guerra mondiale. E questa qui vuol dire che ignorano di fatto la storia. Ho fatto fior di video su che cos'era l'unità 131. In ogni video, in ogni diretta che faccio, spiego che nella sola Cina continentale i giapponesi hanno fatto una cifra variabile tra i 20 e i 35 milioni di morti. Ma non c'è niente da fare. I giapponesi passano per, come dire, povere vittime. Lettura consigliata, l'esercito dell'imperatore, storia dei crimini di guerra giapponesi. E c'è anche da dire una cosa su questo passare per vittime dell'olocausto nucleare. I giapponesi ci hanno marciato e ci hanno marciato alla grande. Ok? Uno dei primi video che ho fatto era la recensione di un libro intitolato Il passato che non passa dell'olandese, del giornalista e storico olandese Ian Burma. Un libro che vi consiglio di recuperare perché è estremamente interessante per vedere come i giapponesi hanno letteralmente seppellito sotto una marea di silenzio e nebbia quello che hanno combinato durante la seconda guerra mondiale, facendosi passare per vittime dell'olocausto nucleare. Ma tu gli dici ma voi giapponesi avete fatto lo stupro di Nanchino, avete fatto l'unità 731, avete causato la carestia in Indocina che ha fatto quasi due milioni di morti, avete distrutto Manila, le marce della morte, il trattamento inumano dei prigionieri. Ma noi siamo stati bombardati con le atomiche. E tanti occidentali, facendo dell'anti-americanismo d'accordo, diciamoci la verità, cevonno crede. Che vi devo dire? Inoltre c'è anche da dire una cosa, la maggior parte di quelli che lanciano alti lie, americani maledetti, criminali assassini, a quando una Norimberga per Hiroshima e Nagasaki eccetera eccetera eccetera, non hanno idea di quello, ripeto, non hanno veramente idea di quello che hanno combinato i giapponesi. Hiroshima era una povera città come la povera Dresda, praticelli di asfodeli, giunchiglie, nasturzie, peonie, fiorite, in mezzo ad alcuni dei più grossi arsenali del Giappone, in mezzo ad alcune delle più importanti basi navali e militari di tutto l'impero giapponese. Cosa gli dici a certa gente? Niente. Che gli devi dire? Insomma, signori, io ringrazio, come dire, vi ringrazio tantissimo per l'attenzione, ringrazio tantissimo l'amico Giulio Bernacchia che mi ha passato questa sua breve considerazione sulle cause che spinsero gli americani a usare le bombe atomiche sul Giappone. Cioè, non stiamo tanto a girarci attorno. I giapponesi, i capi del Giappone, ripeto, quelle 10-15 persone al massimo in Giappone che avevano in mano il governo, il destino, il futuro del Giappone, se non fosse stato per le atomiche avrebbero mandato a morire sulle spiagge da sbarco, ragazzini armati di lancia puntite, ragazzine con le bombe in tasca, vecchi malandati che si sarebbero immolati in nome dell'imperatore, una resistenza durissima e feroce che avrebbe portato al collasso gli americani, solo che gli americani non avevano voglia di stare a questo gioco. Non avevano voglia di continuare la guerra gli americani. Gli americani si sono trovati in mano un'arma che poteva porre fine alla guerra e l'hanno usata. E per quanto possa sembrare paradossale Fat Man e Little Boy, siamo sinceri, hanno salvato centinaia di migliaia di vite americane e soprattutto decine di milioni di vite giapponesi. Perché se non fosse stato per le due atomiche il Giappone sarebbe stato devastato da una guerra atroce che sarebbe durata forse per almeno altri dieci anni. In pratica, ripeto, Truman ha detto, i bombardamenti ingegneri non vi sono bastati. Ok, adesso io con una singola bomba portata da un singolo aereo vi distruggo una città per volta. Vi volete arrendere o no? E se non vi arrendete, rendetevi conto che il vostro maledetto paese sarà ridotto ad una palude fosforescente e radioattiva assieme al vostro amato Monte Fuji insieme al vostro amatissimo divino imperatore. I giapponesi, persino i più fanatici, decisero che era troppo anche per loro. Ripeto, l'unica condizione che posero fu quella di salvare la figura, la persona, dell'imperatore Hirohito. Gli americani ci pensarono un po' su, dissero, vabbè, lasciamo perdere, impicchiamo tutti tranne Hirohito. Ecco, in pratica fecero questo. Allora, adesso, cari signori, tocca a voi, come sempre, qua sotto commentate. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Mi rendo conto che ho ripetuto in pratica quello che ho detto in un video degli anni passati, però, repetita Juvent, anzi Juvent, scusate, e certe cose vanno comunque sia ripetute e rincalcate a forza in certi cervelli per far centrare questo concetto basilare. Gli americani volevano far finire la guerra, i giapponesi no. E non stiamo lì a dire, ah, poveri giapponesi, ah, ma sì. Io ho visto conversazioni in cui certa gente diceva, ah, sì, so di episodi come lo stupro di Nanchino. Episodi. Episodi. 300.000 morti solo nella città di Nanchino, stuprata, la città stuprata, perché aveva colpevolmente resistito per una settimana alle forze dell'esercito imperiale. Cioè, la cattiva coscienza dei giapponesi e la mala fede dei loro tifosi. Ecco. Vabbè. Insomma, signori, adesso tocca a voi. Mi raccomando, commentate qua sotto, fatemi sapere che cosa ne pensate e, come sempre, arrivederci al mio prossimo video. E soprattutto, ciao!